5 gol allo stadio comunale di Castelfranco Veneto tra Giorgione e Tamai per quella che era un'autentica sfida salvezza. Il Tamai anche quest'anno ha una squadra tosta e ha dimostrato di avere molta grinta. Dopo due vittorie invece si blocca il Giorgione. Due volte in vantaggio i ragazzi di casa, prima con Fantinato nel primo tempo pareggiato da Osorio, del Tamai. Poi a inizio del secondo tempo subito un rigore in vantaggio del Giorgione realizzato da Rostellato, l'uomo più rappresentativo di questo Giorgione 2012. Infine i gol di Scappin e Conte all'ultimo a tre minuti dalla fine. Una autentica beffa per il Giorgione che in quel momento giocava anche 11 contro 10. Ma andiamo a sentire le impressioni del dopo partita. Mister Esposito due volte in vantaggio e due volte raggiunti e poi superati. Una beffa questa sconfitta. Direi di sì, anche perché abbiamo controllato la partita, dominato nel primo tempo, controllato nel secondo. Il primo gol è nato su un infortunio di Lorello, il secondo c'era un fallo incredibile su Gazzola e il terzo è stato un'invenzione di Conte. Altri tiri non sono stati fatti. Purtroppo il calcio è questo. Noi patiamo in esperienza perché la partita andava controllata, andava sicuramente controllata meglio. Non siamo stati bravi a farlo fino alla fine. Gli episodi hanno girato contro. La squadra comunque c'è? La squadra c'è, ma non è una novità. Non è la prima partita che noi giochiamo meritandoci e uscendo con un pugno di mosca. Questo è il calcio. È amaro, spesso è amaro. Noi dobbiamo crescere, soprattutto i giovani devono essere un po' più maturi nella gestione delle situazioni perché alla fine si sono fatti prendere dall'ansia. Nicola Rostellato, un gol anche oggi ma non è bastato? Purtroppo no, nonostante la prestazione della squadra abbiamo perso una partita secondo me immeritata. Infatti sono molto deluso, molto amareggiato. C'è Luca Birtig, mister del Tamai. Una squadra tosta anche quest'anno ha portato a casa la vittoria? Sì, avevamo delle difficoltà oggi non avendo i nostri tre attaccanti titolari per infortunio. L'abbiamo vinta in modo abbastanza rocambolesco su delle azioni singole, però ci abbiamo creduto fino alla fine anche in dieci e finalmente ce l'abbiamo fatta portare a casa questa vittoria. E adesso la classifica è meno terribile? Ma è meno pesante. Già domenica recupererò tre giocatori, fra cui Della Bianca. Abbiamo accorciato il gap che era pericoloso e adesso abbiamo il Cerea domenica e cercheremo ormai di... Sono tutte finali per noi, sono tutte finali. Cerchiamo di accorciare la classifica e poi di giocarci quello che ci sarà da giocare.